Ci avviamo a conclusione dell'anno 2020 e interpelliamo il nostro direttore Alessandro Giuliani per capire che cosa ha caratterizzato il mondo della scuola in questo anno particolare. Buongiorno direttore. Buongiorno a tutti. L'anno 2020 è stato un anno probabilmente indimenticabile per la scuola, un anno che è iniziato con l'approdo al Ministero dell'Istruzione della allora sottosegretaria Lucia Azzolina in sostituzione del dimissionario polemico Lorenzo Fioramonti che si aspettava una cifra più importante dalla legge di bilancio 2020 e quindi l'approdo della nuova Ministra è stato sin dall'inizio però caratterizzato da quello che poi ha appunto contrassegnato il 2020 che è stato il lockdown, già nel mese di febbraio hanno cominciato a caratterizzarsi le scuole per delle chiusure forzate in Lombardia in particolare e poi siamo arrivati ai primi di marzo, il 9 marzo in particolare, ben 8200 istituti scolastici in Italia hanno chiuso le porte e si è passati alla didattica a distanza. E si è arrivati poi anche a degli esami di Stato sui generis, ci racconti un po' come è andata? Sì, sì, dopo una didattica comunque all'inizio che ha spiazzato il corpo docente e poi comunque il corpo insegnante si è attrezzato e si è anche validata questa nuova modalità a livello legislativo ci sia proiettati alla maturità 2020, contrassegnata da un esame unico e in alcuni casi anche a distanza, l'esame unico in presenza, commissione e candidato e laddove vi sono stati dei casi fortunatamente rari anche attraverso di studenti o parti di commissari con emergenza in uno stato di salute legato al Covid o comunque precario e comunque hanno realizzato l'esame a distanza. È stato un esame che probabilmente potrebbe anche avere un bis, questo dipenderà molto dall'attuale Covid, da come evolverà. E in estate invece cos'è successo direttore? Bene, in estate abbiamo avuto diversi episodi, diverse circostanze che hanno sempre comunque visto la scuola in primo piano, innanzitutto i concorsi, concorsi ordinari banditi nel mese di luglio, ma è stato soprattutto lo straordinario a far parlare perché c'è stata una contrapposizione tra in particolare Movimento 5 Stelle, Italia Viva e l'EU che sulle assunzioni avrebbe preferito il partito del Ministro della Salute Roberto Speranza, avrebbe preferito delle stabilizzazioni direttamente da graduatorie. Questo non è accaduto e con l'intervento del Premier Giuseppe Conte c'è stata una modifica del bando e poi in autunno si sono svolte quasi tutte le prove e poi vedremo che in realtà una parte devono ancora realizzarsi. Sempre nel mese di luglio abbiamo assistito all'inizio di quella che è stata l'organizzazione della ripresa della scuola in presenza con il commissario Domenico Arcuri che ha pubblicato il bando per i famosi 2 milioni e 400 mila banchi monoposto, una parte anche a rotelle che hanno determinato moltissime polemiche derivanti anche dal fatto che non a detta della opposizione e anche dei sindacati non erano certo i banchi delle priorità per rispondere all'emergenza Covid. Nel mese di agosto le graduatorie per i precari sono state digitalizzate, sono entrate in scena le cosiddette GPS e le quali va detto che hanno comunque determinato anche esse molti problemi da un punto di vista soprattutto delle collocazioni dei precari all'interno delle graduatorie stesse per via di un algoritmo probabilmente allestito con una eccessiva fretta da parte dello stesso Ministero. Polemiche che si sono protratte anche fino a settembre, ma quali sono state effettivamente le criticità per la riapertura delle scuole il 14 settembre? Le criticità sono quelle che purtroppo poi non sono mai state affrontate se non in questi giorni attraverso i coordinamenti delle varie prefetture, quindi mancanza di un potenziamento dei trasporti e una mancanza di monitoraggio all'interno dei singoli istituti ha portato inizialmente a un inizio abbastanza rallentato di quello che è stato l'avvio dell'anno scolastico, addirittura diverse regioni e province hanno protratto nella terza decada di settembre l'avvio dell'anno e poi si è arrivati a causa appunto di queste mancate organizzazioni da un punto di vista proprio esterno all'istituto, in particolare sui trasporti, si è arrivati poi alla chiusura per quanto riguarda le scuole superiori e in alcuni casi in zone particolarmente a rischio anche per la seconda e terza media, questo nel mese di ottobre. Nel frattempo la didattica a distanza è diventata didattica digitale integrata, però ecco c'è da dire che comunque si è sofferto e si continua a soffrire abbastanza sul discorso della mancata didattica in presenza. E invece quanto a finanziamenti, quindi recovery fund o legge di bilancio, come siamo messi? Sì, nel mese di dicembre abbiamo innanzitutto assistito a una ripartizione del recovery plan per quanto riguarda la scuola, in particolare si avranno oltre 10 miliardi di euro che verranno appunto in particolare stanziati per il diritto allo studio e appunto per superare il digital divide. E anche per quanto riguarda la legge di bilancio, il bilancio quest'anno sono arrivati circa 3 miliardi e 400 milioni, sono state appunto approvate una serie di disposizioni tra le quali anche l'assunzione di 25 mila nuovi docenti. Va detto che nel frattempo il concorso straordinario, questo è molto importante, si è bloccato come tutti i concorsi pubblici in attesa di tempi migliori per quanto riguarda appunto l'andamento dei contagi. Quanto a un pronostico direttore, l'apertura della scuola il 7 gennaio ci sarà? Verrà? Cioè le scuole superiori torneranno in presenza o no? Cosa ci dobbiamo aspettare? Beh sì, abbiamo un DPCM del 3 dicembre che ci dice che l'apertura doveva avvenire in base a quel testo, al 75% parliamo di scuole superiori, di studenti in presenza. Negli ultimi giorni c'è stato un ridimensionamento di quella percentuale, si è passate al 50% attraverso una disposizione direttamente del Ministero della Salute, comunque è prevedibile qualora non vi sia di nuovo un'impennata di casi Covid che appunto si tornerà alla scuola in presenza negli istituti superiori in maniera molto molto graduale, si partirà con la metà a casa, la metà a scuola e poi molto dipenderà dalle varie organizzazioni a livello di prefettura e dal supporto che daranno questa volta, in questa occasione, i comuni, gli enti locali attraverso il potenziamento della rete ferroviaria, dei trasporti, dei pullman, degli autobus, delle metropolitane. È una partita fondamentale su cui il governo insiste ormai da diverse settimane e staremo a vedere perché mancano ormai pochissimi giorni se effettivamente le cose saranno diverse rispetto a settembre. Quindi da questo 2021 cosa dobbiamo attenderci? È magari una battuta in chiusura sui vaccini che aspettano i docenti? Beh, dobbiamo attenderci sicuramente un miglioramento di quella che è stata la scuola negli ultimi mesi. Diversi istituti, anche a livello di scuola primaria e scuola media, hanno vissuto in particolare nelle regioni della Campania e della Puglia per effetto delle decisioni delle giunte regionali, in particolare i governatori De Luca e il governatore della Puglia anche che hanno deciso appunto di chiudere le scuole e questo poi ha anche comportato delle sentenze da parte dei TAR, ricorsi, contro ricorsi. Ecco, tutto questo ci auguriamo che non accada più. La scuola è scuola in presenza e la scuola è soprattutto una scuola nella quale non vi sono differenze tra studenti, alunni che possono accedere alla didattica. Questo purtroppo con il lockdown è emerso, il problema in maniera netta, in maniera decisa e abbiamo assistito addirittura a oltre un milione di alunni che non hanno potuto accedere al digital divide. Il governo inizialmente ha provveduto con la fornitura di PC, poi anche di tablet e anche di connessioni, ultimamente anche per i precari sono stati messi a disposizione con il comitato d'uso diversi migliaia di device, però comunque il problema rimane, ecco, quello che ci dobbiamo augurare è che la scuola ritorni in presenza il prima possibile come la conosciamo, come è sempre stata, come è la sua mission. Bene, grazie direttore, facciamo gli auguri ai nostri lettori per un anno 2021 sicuramente più fortunato di questo e alla prossima. Buon lavoro direttore. Auguri, auguri di buon anno a tutti. Grazie a tutti.